Al Castello De Scalchi di Bracciano inaugurata la quarta edizione di Opere Festival che quest'anno ospita la mostra evento Sovrana Eleganza dedicata allo stilista Roberto Capucci, mostra che sarà visitabile fino a metà dicembre. L'inviata Paola Caccianti. Grazie. La bellezza è una sovrana eleganza. Donne belle non me ne importa nulla, io voglio vestire le donne di carattere, donne che hanno personalità, che hanno grinta, che sono forse anche cattive. Allora il vestito non lo indossano, ma lo portano con gioia. 66 creazioni, bozzetti teatrali inediti ospitati tra memorie rinascimentali, sogni che se sarà ben difficile indossare si possono però vivere in un'atmosfera da incanto.